Dammi gli All Blacks, insieme ce la faremo! Ciao, sono Loris, Barbie. Io non ho il pallone, a me non serve, io devo fermare gli avversari. Quindi, se vogliamo fermare questo virus, rimani a casa. Anche gli All Blacks, Vecchia, Gloria, Valtellina, Valkiavenna, sono vicini alla popolazione, distanti ma uniti. Assieme ce la faremo. Coraggio ragazzi, insieme possiamo parlare anche questo. State a casa. Ciao, sono Buonio Paolo, anch'io faccio parte degli All Blacks, voglio dirvi che andrà tutto bene. Restate a casa. Buongiorno, sono Matteo Dell'Occa, presidente onorario degli All Blacks, una squadra di atleti, ex atleti, dai 40 ai 70 anni, che hanno come mission quella di aiutare il prossimo. Lo facciamo giocando a calcio. Quest'anno, purtroppo, ci dobbiamo fermare per qualche mese, ma la nostra più grande vittoria sarà quella di festeggiarla sul campo, sconfiggendo il coronavirus. Per il momento dobbiamo essere responsabili, stiamo a casa, odiamoci le nostre famiglie e prepariamoci atleticamente nei nostri salotti per poi dopo ritornare sui campi alla grande. Un ringraziamento speciale va a tutti i medici infermieri, alle forze dell'ordine, alle istituzioni, la protezione civile, tutti quelli che ci stanno garantendo la possibilità di uscire da questo brutto male. Grazie, a presto. Ciao a tutti, sono Raffaello Noghera, sono un farmacista, sono anch'io un All Blacks. Come potete vedere, purtroppo, non sono nel salotto di casa mia a fare palleggi, ma il mio dovere in questo momento è quello di garantire la distribuzione dei farmaci a tutti i cittadini. Posso però fare un appello. Mi raccomando, chi può stare a casa, stia a casa, perché è l'unico modo che abbiamo per sconfiggere il coronavirus. Buongiorno, sono Tiziano Dallocca e faccio parte degli All Blacks, vecchie glorie. Volevo chiedere una cortesia, state a casa, per favore, perché solo in questo modo riusciremo a dare una pedata a questo brutto virus. Noi All Blacks stiamo a casa, non è il momento di scherzare, stai a casa anche tu. Sono Eugenio Lombella, vicepresidente onorario dell'All Blacks, orgoglioso di far parte di questo meraviglioso gruppo e sono anche il più vecchio. Mi sto riparando dal coronavirus con una coperta di palloni, stando a casa, fate così anche voi. Vedrete che andrà tutto bene. Un saluto dal vostro mister, a voi, alle vostre famiglie e un arrivederci a presto. Ciao ragazzi, ci vediamo.